e beh quindi è arrivato finalmente il momento di iniziare questa fantastica serie naturalmente lasciate like e iscrivetevi soprattutto ma anche un grazie a creepy che con la sua serie dopo con un challenge mi ha fatto venire questa idea molto da dire mi lasciate play così direttante qua dalla finestra beh sì certo no però a tutti è venuta sì certamente ma ecco la mamma sì perché mi sto correndo adesso non entri sì la mamma certo wow una pokeball vedete andiamo a leggere una lotta seria ok va bene wow first try non lo sarei mai aspettato direi di prendere finalmente da qualche parte eh cosa ah ecco devo combattere seriamente wow chissà se è una lotta seria non credo oh mio basta finalmente è finita ci ho messo tipo dieci minuti quasi per vincere mi addormentava ogni tre secondi oh sì finalmente è finito non mi importa di quello che dice voglio solo andare avanti beh sì grazie mi avrei dato finalmente le scarpe anche se potevo già correre quindi vabbè finalmente posso esplorare oh mio dio sono scherzando ho fatto due passi suono già il primo allenatore ah vabbè ok andiamo spero sono un'unica come un'altra ok non vi erido nice prima città raggiunta cosa ha da furire adesso com'è il fuoco strettamente bruciando la città sento a fuoco destra o qualcosa del genere e so perchè beh come come sui ognuno eh ma wow deve essere fortissimo però io non ti conosco ci vogliamo spiangere a questo punto bene sì eccomi cos'è quel coso una specie di egged rosso sembra abbastanza un tipo fuoco quindi nuovo membro del team beh sì è una specie di egged rosso ecco il nuovo alma del team beh sì grazie grazie anche se alla fine non è stato quasi bene non è stato difficile ci vediamo al prossimo episodio